E' un po' sempre una finzione questa cosa qui, per cui non dire il taglio dei costi della politica, io da statuto prenderò sempre 1800 euro, tanto quanto un operaio specializzato con un po' di anzianità. Però uno mi verrebbe in mente, l'assunzione dei precari della ASL contro la farsa che c'è stata nell'ultimo consiglio, ogni giorno ci arrivano comunicazioni che si stanno facendo i saldi di fine stagione, visto che non c'è un governo regionale, l'ultima da Abruzzo Lavoro dove si stabilizzano, si avviano le procedure, si rinnovano i contratti per 9 precari e gli altri 12 si mandano a casa, per cui credo quello sarebbe il mio privo intervento. Bene, grazie.